Si tratta di un corso di introduzione, un corso base di lingua e cultura coreana, quindi è una prima introduzione diciamo alla cultura, un primo avvicinamento alla cultura di questo paese dell'estremo oriente e anche un'introduzione linguistica, quindi metà del corso è dedicata appunto agli aspetti più economici, politici e appunto della tradizione culturale e metà delle ore, delle 30 ore invece, sono dedicate alla lingua. Un corso offerto agli insegnanti nell'ambito della formazione continua, però la Facoltà di Lingue ha naturalmente deciso di aprirlo anche agli studenti di lingue, in particolare pensando agli studenti di cinese per i quali è importante avere una visione più ampia sul mondo orientale e quindi è aperto però anche a tutti gli studenti, a tutte le persone interessate. L'interesse dell'Italia per la Corea è molto alto, per esempio l'Italia è il terzo partner commerciale europeo della Corea del Sud, quindi ci sono soprattutto nel settore della meccanica, della moda, del tessile e anche nel settore agroalimentare c'è molto export in Corea e quindi molto lavoro con i coreani. Poi c'è anche un interesse di attualità per quanto riguarda la politica, la lingua coreana è condivisa tra il nord e il sud e quindi diciamo un accostamento a questa parte dell'Oriente in questo momento è anche molto significativa e interessante dal punto di vista dell'attualità politica. E poi la docente che interverrà, la professoressa Vincenza D'Urso, è un'esperta di tradizione, di letteratura coreana e viaggia molto spesso in Corea e ha anche avuto dei riconoscimenti, dei premi da parte del governo coreano per i suoi lavori e la sua ricerca e quindi anche dal punto di vista culturale e linguistico ha una preparazione che potrà dare molto ai partecipanti al corso.